Il palinsesto di espansione tv si arricchisce di un nuovo importante appuntamento. A partire dal 2 ottobre, in diretta dal lunedì al venerdì, alle ore 7, verrà trasmessa la Santa Messa celebrata dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova di Como Camerlata. Un servizio proposto in collaborazione con la diocesi di Como e con i frati minori conventuali dell'Ordine Francescano del Convento di Sant'Antonio di Como. I telespettatori dunque potranno vedere, ascoltare e partecipare a distanza alla Messa del Mattino di ogni giorno feriale. Ed è da questo luogo che affettivamente tante persone fanno riferimento, che celebreremo la Santa Messa delle 7 del mattino proprio per aiutare tante persone che vivono in casa, che sono sole e che hanno bisogno anche del conforto e della partecipazione della Santa Messa. Il santuario di Sant'Antonio di Padova, dal quale verrà trasmessa la Messa, rappresenta un luogo particolarmente caro a comaschi e pellegrini. Questa chiesa, santuario dedicato a Sant'Antonio, è elevato a santuario diocesano da Monsignor Diego Coletti, proprio per la frequenza di tanti pellegrini e tanti devoti del santo. ha un grande significato perché qui i frati vennero circa 70 anni fa e vennero qui chiamati dal vescovo in una delle zone più povere, più disagiate della città di Como, diremmo nella periferia e vicino anche al carcere del Bassone dove noi frati ci dedichiamo anche all'assistenza come cappellani. Ecco, questo luogo è diventato sempre più un luogo di attenzione verso i poveri con la caritas locale, un luogo di attenzione ai pellegrini e una delle poche chiese rimaste dove si ascoltano ancora le confessioni tutti i giorni della settimana. Grazie a tutti.